Buonasera Salvini. Plauso. Cosa? Plauso. Posso fare un plauso al popolo russo che democraticamente, su una scheda elettorale, pensate, con 50 partiti diversi, potevano scegliere su 50 partiti diversi, liberamente hanno votato Putin. Posso fare un plauso a Putin, al leader della Russia? Non deve farlo. Cosa c'è di più bello che vedere un presidente come Putin aiutare i propri cittadini a votare? Ma non è che li ha aiutati. Ma non era assicurante vedere un signore armato dentro un'urna? No, no. E vende. No, non era assicurante. Che controlla se la matita... Potrà controllare se la matita è appuntita. No, ma non controllava la matita. Cosa c'è di più affettuoso e rassicurante di un funzionario del KGB che ti aiuta a piegare la scheda? No, ma non erano lì per quello. E quindi grazie, grazie. Ma che grazie? Ma no. Sa quante volte io ho ridato la scheda col voto all'esterno perché non so piegare le schede del rai? Quello è il problema suo, ma io le elezioni non erano democratiche. Posso dire che non c'è niente di più bello mentre sei lì? che magari quante volte andando a votare ci è venuto in mente di disegnare un piccolo cazzetto. Ma no, ma chi? Piccolo, un fiorellino, un vaffa. Ma no. E a fianco invece di fare mentre tu sei lì che pensi c'è un signore col mitra che ti fa niente, niente, niente. È orrendo. Ti indica dove mettere la croce. È orrendo. Fatemi vedere l'ultimo raduno con gli alleati dell'ultraestria europea. non ci saranno il Presidente della Camera Lorenzo Fontana e i governatori Luca Zaia e Massimiliano Federighi. Nel suo partito lo stanno mollando tutti, ma non solo nel suo partito perché cominciano a mollarlo anche dentro il governo. Elezioni in Russia, la dura replica di Antonio Tajani, Matteo Salvini, il ministro degli esteri sono io. E con questo prendiamo due notizie. la prima è che Tajani ha le palle e la seconda è chi gliele fa girare le palle. Ci sarebbe anche la terza informazione, cioè che Tajani è il ministro degli esteri perché non lo sapevamo. Ma infatti ha fatto bene a ricordarcelo. Comunque per Tajani il voto in Russia è voto segnato da violenze e pressioni. È segnato da violenze e pressioni. Salvini invece l'abbiamo visto prima che dice sulla vittoria di Putin quando un popolo vota sempre ha ragione. e il popolo ha votato. Ora vorrei farvi notare che tutte e due sono vicepresidenti del Consiglio. E quindi ha ragione l'amico di Putin? O Tajani che è il successore del miglior amico di Putin? Il fatto è che da quando è scoppiata la crisi in Ucraina noi italiani siamo così, siamo un divaghi. Noi italiani siamo sempre stati un po' un divaghi perché obbediamo agli americani ma si vede che non ne abbiamo voglia. Facciamo l'italiana perché mandiamo le armi in Ucraina ma quelle buone ce le teniamo noi. L'inquietudine Ucraina per le armi italiane vecchie e senza munizioni. Buonasera Presidente Meloni. Cosa fa? Stati zitto. Ma perché si nasconde sotto la giacca ancora? C'è quel comunista di Bonelli. Stati zitto. Ma chi? Non c'è no. Bonelli. Ma non c'è Bonelli. Non c'è Bonelli. No. Dice che lo guardo strano. Sì ma non c'è Bonelli. Venga fuori. Non c'è Bonelli. Posso uscire? Sì può uscire. Non c'è Bonelli. Non c'è Bonelli. Non c'è Bonelli. Dice che lo guardo strano. E infatti ma perché tra l'altro lo guardava strano? Ma quale strano? Lo guardavo con pietà. Ma come con pietà? La pietà con la quale guardo i ragazzotti di sinistra che sono tutti nervositi perché li ho chiamati ragazzotti. In effetti in Parlamento. Noi non siamo ragazzotti. E certo sono colleghi. Fatevi una risata. Datevi una calmata. Ma perché? Siamo di Roma. E a Roma si dice a regà. Sì ma in Parlamento. Capisco che siete nervosetti perché non riuscite a mettervi d'accordo manco su un candidato in Basilicata. Però non li prende in giro. Sono affari loro. Sì lo so. Ma non prendetela con me che sono romani e ho i tempi comici della romanitudine. Sì ma non deve avere i tempi comici. Capisco che i ragazzotti di sinistra una risata non se la fanno manco col solletico sotto i piedi. Ma non devono farsi la risata adesso. I ragazzotti di sinistra. E lo credo che sono nervosetti. Perché poverini adesso ci hanno. Fammi fare due conti. La fighetta svizzera che sta al 19 se non sbaglio. Il nobile con la pochette che regala le brioche di cittadinanza. sta al 15. Al 15. Comunisti buzzoni stanno al 4. Sì. Totale 38%. E vabbè. Noi ci avemo. Sì. Vabbè ma non... Lascia sta perdere. Lascia perdere. Vabbè lascia sta perdere. Lascia sta perdere. Lascia sta perdere. Che io sto a cifre raggiungibili. Vabbè lei è alta. 27%. Sono sondaggi. Sì. Poi ci avemo l'8 col padano putiniana. Sì. Il 7 piccolo 8 coso... Chi? Poretto dai. Ma chi? Taianni è bravo. Ti ricordi il nome? È bravo. Quindi 27 più 16 è 43. 43 e siete avanti. E già così li sfondiamo. Per ora certo. Aggiungeci il 4 e il 3% dei due scappati da casa. Ah. Il dentino e il pariolino. E sei ma 50. E sei ma 50. 50. Non ce la fai? Buonasera Calenda. Lo facciamo noi. Cosa? Cosa? Ce la fai? Cosa? Ce la fai a tirare un calcio nel sedere a Conte? Perché deve sempre... Ce la fai? Sì. A mandarla a casa in maniera assaria? Sì. Vabbè. Sto cicisbeo populista filo putiniano. No ma no. Che mi fa venire mal di pancia. Vabbè ma tanto ormai... Bardi! E infatti. Tutta la vita! Eh. Tutta la vita! Eh. Ce la fai Bardi? Con Bardi sì. Lei adesso appoggia Bardi. Bardi! Lei appoggia Bardi del centrodestra che però governerà coi filo putiniani della Lega eh. Oddio. Cosa? Oddio. Cosa? Qua c'è confusione. Eh l'ha fatta lei semmai. Allora cosa devo fare io? Cosa? Non stare da nessuna parte? Da nessuna parte? Ma come parla? Ma ce la faccio io a stare da nessuna parte? Sì. No però scusi no perché lei si è presentato da solo in Sardegna col centrosinistra in Abruzzo e ora va col centrodestra in Basilicata. Cioè. Eh. Eh. Appunto. Allora in maniera seria. Sì. Nel giro di un mese. Eh. Me li sono girati tutti. Infatti. Carlo Calenda, Conte vuole comandare, Conte, Calenda non ci vuole, se ne va da lui. Sembra un reality no? Alle regionali Conte e Calenda sono disposti ad allearsi solo quando il candidato o è il del loro oppure non è dell'altro. Non cercano il candidato migliore per risolvere i problemi della regione, del paese, no? Guardano di chi è figlio. Ma ve l'immaginate se nel risorgimento al posto di Manzini e Garibaldi ci fossero stati questi due qua? Invece dell'Italia oggi ci sarebbero 4.000 staterelli tutti grandi come i Parioli. E comunque, al centro dello scazzo fra loro, come tradizione, c'è la Svizzera. Me la fate vedere la Svizzera? Eccola. Cioè, continuerò il dialogo con Conte e con Calenda. Capite come siamo messi? La priorità della sinistra oggi è chiedere il cessato e il fuoco fra Conte e Calenda. Ma io, io ve lo giuro, mi aspetto una manifestazione seria con milioni di italiani al grido di ma che cazzo state facendo? Buonasera. Meno tre. Buonasera. Meno tre, meno due, meno uno. Via. Si inizi coi lavori. De Luca, buonasera Presidente. Dimmi Pasquale, che c'è? Cosa fa? Perché non avete iniziato? Che c'è? Gennarino si sta prendendo un caffè. Vabbè. No, vabbè. Ah. Un caffè lungo. Ah. Ma cosa succede, Presidente De Luca? Cosa succede? Cos'è sta roba? La pelle mi brucia. Ma perché? La pelle mi brucia. Perché? Perché ogni volta che qui in campagna i lavori partono in ritardo. Ah, quelli erano lavori. Mi va a fuoco la pelle, vabbè? Vabbè, è un modo per dire, certo. Ogni secondo di ritardo è una goccia di soda caustica sulle carni vive. Vabbè, ma perché? Perché? Perché regione campagna. Sì. Io voglio un'efficienza scandinava. Vabbè, ma non è caso. Precisione tedesca, rigore spartano. Va bene, va bene. Le fa onore questo. Qui in campagna, che si sappia. Sì. C'è uno scippo ogni 30 secondi. Eh, non è bellissimo, eh? Ma solo 30 secondi netti. Ah, ok. Né un decimo più, né un decimo meno. Contento lei, del carità. Perché? Non c'è da vantarsi, eh, però. Questo sud. Quale? Il mio sud. Il suo sud. È pronto a sfidare qualsiasi nord. Vabbè, grazie. Lei mi dio... Lei mi dio un nord. Ma cosa vuol dire? Mi dio un nord qualsiasi. Ma cosa sta dicendo? Mi porti qui un nord qualsiasi. Ma cos'è il nord? Un nord a piacere. Un nord Europa, un nord America, un po' nord. Ma no. E io le dimostrerò che la fama del nord nella storia è una fama usurpata. Addirittura, addirittura. Va bene. Va bene, stia calmo, sì. Sì. Le dico solo che sulla bussola è vero che c'è l'ago che punta sulla N. Sì, la bussola. Ma la N non sta per nord. No, no. Sta per Napoli. No, no, no. Comunque, comunque nella terra campana ci sono tracce di civiltà. Ancora prima dell'avvento di De Luca. Mi fate vedere. Pompei scoperto o antenato della pizza in un dipinto di duemila anni fa. Il primo commento dei napoletani, quando l'hanno vista, è stato «Marone, non ci sarà venuta un po' bruciata a Pompei?» E per forza dopo l'eruzione si è bruciata. Ora voi vi chiederete, sarà meglio la pizza di Pompei di duemila anni fa, quella di Napoli di adesso o quella che nascerà domani dall'imprenditore di Cuneo? Buonasera. Allora, io ci voglio rispondere al professore Tony Servillo. No, non è Tony Servillo. Io ti dico solo una cosa, che Tony Servillo è un bravo attore, per carità, che però ci contesta la pizza del Crazy Pizza. Però non è Servillo l'attore, è lo chef Sorbillo. Esatto. Allora, il grande Tony Servillo dice che la nostra pizza non la possiamo chiamare nel modo che io l'abbiamo chiamata. Cosa ha detto? Lui dice che non ci possiamo dare il nome Vesuvio. Infatti è Vesuvio. Sì, quella cosa lì che davanti Cristo ha fatto casino con le elezioni a Pompei. No, no, è l'eruzione di Pompei. Ma io adesso a Sorbettillo ci voglio fare quella cosa che uno guarda, sai quando guardi le parole scritte su un foglio che vedi una dopo l'altra e nella mente forma la frase. Scusi, vuole dire leggere? Esatto, quella cosa che si fa alla giro. Ora, voglio leggere a Sordino gli ingredienti della mia pizza. C'è la pizza? C'è la lì? Ma quella è una pizza, scusi. Ma certo che ce l'ho qui, è ovvio. Ma ce l'ha già lì, scusi. Gli ingredienti sono scritti sull'etichetta. Arrivo, devo dire un po' la verità, il venerdì, il venerdì sera, che sono un po' stanchetto. Anche perché ormai, devo dire, l'età media del nostro gruppo di lavoro è 79 anni. No, ci svegliamo tutti alle 6 del mattino, no? Alle 6 siamo così. Cosa facciamo? Una tristezza, quello sarà. Quindi noi veniamo a lavorare molto presto, no? Chi viene in Vespa, chi ha la forza di venire in Vespa, io ho troppa paura, no? Ma c'è gente che viene in Vespa, no? E vengono in Vespa, in motorino, noi invece veniamo con un furgone che ci vengono a prendere perché io non ho neanche guidare. E che cosa succede? Veniamo sempre... Ieri mattina, era giovedì, alle 8.48 eravamo in macchina e abbiamo visto che stavano riparando delle buche all'incrocio tra via Giuseppe Ferrari, angolo via Farini. E allora io ho detto a Francesco Freiri, dico presto, Franci che sta davanti, fai un video. È vero, Franci? Sì! Eh? Sì! Ok. Ho fatto il video. Ce lo fai vedere, Franci? Sì! Grazie! Prego! Ecco, eccolo lì, eccolo lì. Vedete le buche? Guardate i signori che le stavano riparando, vedete? C'ha paura alla carriola, ma ha paura perché ha visto la Vespa. Dice che cazzo faccio? Eh no, vado. Ah, eccomi qua. Ok. Buttano giù. Vedete? E loro riparano la buca. Ora è 8.48. Grazie, Franci! 8.48. Allora, dobbiamo dire bravo Sala, bravo Sala perché la settimana scorsa avevamo parlato delle buche a Milano e lui le ha riparate. Poi naturalmente da lì in poi ne abbiamo trovate delle altre, ma va bene. Però lui alle 8.48 del mattino faceva riparare le buche. Certo, uno può dire ma cazzo alle 8.48 c'è gente che va a lavorare, si portano i bambini a scuola, c'è un traffico della Madonna, perché non le ripari dalle 21 di sera alle 5 del mattino? E tu mi dirai e poi chi cazzo lo vede che lo fa, no? Dice che la sta riparando, no? Buonasera Sindaco Sala, sembra che non ci sia un rimedio alle buche di Milano. Allora, ho mandato uno dei miei a cercare la pianta dei soldi, ma non l'hanno trovata. Certo, non esiste. Ne hanno trovata una che potrebbe, ma difficile, sono due mesi che uno dei miei sta lì a fissarla e vediamo se tira fuori qualcosa, però la pianta dei soldi soffre come tutta la città di Milano, è a causa delle salature che abbiamo fatto. Avete fatto le salature? Calcoli che a gennaio abbiamo fatto 15 salature perché pensavamo che le strade si conservassero sotto sale come il bacchera. No, ma... Buonasera Feltri. Allora, a Pioltello, per la fine del Ramadan, una scuola vorrebbe chiudere una giornata, no? E lei ha scritto di essere contrario. Certo, sono contrario. Ma i ragazzini non fanno la mazza già quando sono aperte. No, vabbè, ma adesso non... Forse per me abolirei pure le domeniche e rinchiuderei dentro tutti gli alunni tipo 41 bis. Ma perché? Ma cosa dice? Leggermente più severo. Ma no, ma scusi, ma... Accompagni tuo figlio il primo giorno di asilo e lo vai a riprendere quando hai 18 anni. No, vabbè, però scusi, non cominci ad esagerare, dai, su. Ma no, ma non cominci lei. Ho capito, ma non è che si possono portare i figli e poi riprenderli a 18 anni, no? Non cominci, su. Ma è scassare le balle, la mia è un'idea a favore della sanità mentale di noi genitori. Cioè, cosa dice? Che così non avremo marmocchi per casa a cui fare i compiti, farli giocare, portarli a nuoto, a calcio, sperando che almeno uno di loro diventi un campione. Invece abbiamo affrontare la frustrazione che è un brocco come tutti. Vabbè, ma è bello. Per cui non rifarà mai e non ci ridarà mai tutti i milioni che nel tempo abbiamo speso per mantenermi. Sì, ma non può fare una disfunzione. Ma no, io dico solo chiudiamoli dentro. Buonasera. E benvenuti al Mentana che vorrei. Dopo che ho mandato in onda lunedì scorso alle 20 e 27 il data room della Gabanelli sulle banche che, uno, non pagano le tasse sugli extra profitti, due, non hanno aumentato gli interessi sui conti correnti, ma hanno aumentato quelli sui muti. Questo è avvenuto alle 20 e 27. Perché dico questo? Perché alle 20 e 32 è successo qualcosa di bellissimo. Ogni italiano si è visto triplicare sul suo conto corrente e si è visto abbassare la rata del mutuo. Si è visto recapitare a casa Briatore in persona che in omaggio gli ha portato la pizza con i pomodorini dei Pinerolo. Fratelli, la puntata finisce qui. Ciao. Noi ci rivediamo per Pasqua. Sarebbe giusto in questo momento prendere una colomba bianca e farla volare in cielo perché continuano. C'è stato un attentato oggi a Mosca. Va bene. Vi voglio bene, fratelli. Viva la pace. Ciao. Buonanotte.